Wide Art VCO ha aperto un secondo spazio per la diffusione dell'arte e della cultura. Sì, oltre alla canonica location che abbiamo al caffè Rosmini che continuerà, abbiamo deciso di raddoppiare lo sforzo e l'offerta dell'arte e della cultura ad Omo tramite la nostra associazione. Diciamo che scadono in questi giorni 5 anni nell'inizio dell'attività, quale occasione migliore per offrire una nuova location differenziata dal punto di vista di proposta ma non dal punto di vista di quello che è il nostro intento di diffusione culturale e artistica. Quanti sono gli artisti che ospita, da dove provengono? Al momento gli artisti sono più di una ventina e coprono sia fasce di età e di generazioni differenti che vanno da giovanissimi, addirittura da quindicenni, fino ad artisti di generazioni sulla sessantina e anche dal punto di vista della provenienza copriamo aree geografiche più disparate mischiando artisti ossolani più giovani o più affermati con artisti giovani provenienti da Genova, da Roma, da Milano, da Parigi. Il tentativo è sempre quello di creare una commissione e un mix creativo e stimolante per tutti gli artisti sia quelli più affermati che si confrontano con i giovani sia i giovani che si confrontano con gli artisti più affermati. Grazie